Benvenuti dal canale di Joker Gamer, è la mia prima vendita allo stabilimento di Serra Erba. Ovviamente la sto facendo piano piano per vedere un attimo fin dov'è il limite massimo. Vendite grandi, già è grande. Ma io la posso fare, vediamo, tentiamo. Vediamo, vediamo un attimo com'è. Sì, è come il bunker. Sì. 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 Qui ho fatto due carichi. Certo che è l'MC paga bene eh? Almeno speriamo. Grazie a tutti. Vediamo la strada invece che mi fa fare lui, qual è? È la più corta, sì, la più corta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.